Il patrimonio librario del professor Cosimo Damiano Fonseca è stato donato alla città di Massafra durante una seduta consigliare. Si tratta di un grande valore e punto di riferimento per la comunità scientifica. Il sindaco Fabrizio IV ha sottoscritto un accordo con la regione Puglia, col comune di Massafra e con il professor Cosimo Damiano Fonseca per la valorizzazione della biblioteca comunale. Il patrimonio librario sarà allocato all'interno del Palazzo della Cultura di Massafra. È stato un giorno importante per la città, donati oltre 20.000 volumi di enorme valore scientifico e letterario, collezione unica sulla civiltà rupestre e sull'arte bizantina. Il sindaco e i rappresentanti della regione Puglia hanno detto grazie al professor Fonseca, illustre cittadino massafrese benemerito per l'importante donazione che rappresenta un arricchimento culturale per la collettività. Abbiamo potuto celebrare questo grande gesto di generosità di Monsignor Don Cosimo Fonseca che impreziosisce Massafra con una libreria, con un fondo librario di oltre 20.000 volumi di straordinaria qualità, che farà diventare Massafra un punto di riferimento della comunità scientifica. Un trasferimento che passa, semmai da un orizzonte limitato, qual è quello privato, ad un orizzonte pubblico, qual è quello della gente, che potrà fruire appunto di questo lascito di questi libri per quanto riguarda la propria formazione e la propria cultura. Grazie